buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi penso di non aver fatto mai un video in full hd a 60 fps e devo vedere se riuscire a pubblicarlo o meno così però comunque oggi non siamo strettamente con galaxy s10 ma siamo con galaxy buds ebbene il regalo appunto di samsung è arrivato anzi con largo anticipo di quanto io mi aspettassi perché la promozione io avevo aderito nel preordine ve lo racconto un po' perché i preordine partivano fino al 7 marzo alle 10 di sera io ho registrato la mia prenotazione il giorno stesso in cui ho prenotato il galaxy s10 e mi era stata accettata la fase 1 la fase 2 prevedeva la registrazione del galaxy s10 non appena arrivava tramite il form su samsung members e quindi successivamente avrebbero inviato le cuffie ora le cuffie sono molto particolari sono lo scatole veramente piccolissimo la confezione anche questa andamento cangiante come un po' come il prism white e le cuffie che vengono date con il galaxy s10 sono solo bianche almeno quelle della promozione se le voleste in altro colore dovreste sborsare di tasca vostra 150 euro perché questo è il costo però comunque vediamole allora la confezione davvero piccola vi voglio soltanto mettere a confronto questa confezione con quella delle icon x dell'anno scorso che diciamo tre volte più grande cioè non so se si vede la differenza questa confezione entra in questa almeno un paio di volte e quindi possiamo vedere che appunto samsung veramente sta cercando di andare a ridurre il consumo di carta cartone e plastica inutile utilizzati inutilmente questa è la confezione infatti molto minimale senza tante descrizioni apriamole e troviamo a loro interno le galaxy buds allora le galaxy buds sono queste e le mettiamo un attimo da parte nella confezione appunto sempre confezione minimalista troviamo qui in alto una linguetta che permette di estrarre quello che sono manuale rapido di uso a garanzia eccetera qui in basso invece abbiamo il cavo di ricarica perché si può ancora caricare con l'utilizzo di un cavo normale e poi dei gommini di ricambio per la parte esterna ed è anche dei padigli dei gommini di ricambio per i padiglioni auricolari e per adattarli a tutte quante le misure ora il dispositivo quindi è questo qui e lo prendiamo allora galaxy buds queste galaxy buds sono molto interessanti perché per la prima volta su un dispositivo galaxy permettono che cosa permettono il quasi un adattamento simul simless cioè appunto vedete io come apro la confezione dovrebbe apparire il pop up di connessione connetti se io faccio connetti porterà direttamente nell'applicazione galaxy wearable e si connetteranno le cuffie in un lampo e saranno già connesse al dispositivo io posso andare ad estrarre le cuffie posso utilizzarne entrambe o una sola e mi imposta quindi il potrò quindi utilizzarle per ascoltare musica o anche per effettuare il suono ambientale queste cuffie infatti hanno diverse caratteristiche hanno l'equalizzazione della musica hanno la possibilità di utilizzare il touchpad per poter appunto comandarle quando vedete appunto se tengo premuto il tasto play pausa con un tocco se tengo premuto due volte se tengo premuto non tocco due volte se tengo premuto soltanto ho il comando vocale rapido suono ambientale oppure volume su rapido suono ambientale significa che fino a quando teniamo premuto noi avremo quindi il suono ambientale quando invece lo disattiveremo si disattiverà e questo appunto è parecchio importante avrei preferito comunque che questi comandi fossero un po' più intercambiabili tra di loro vediamo appunto che se io seleziono volume giù si può soltanto selezionare volume su sull'altro quindi niente di così eclatante mentre invece se metto il rapido suono ambientale potrò soltanto ottenere il comando vocale dall'altra parte quindi sono comandi un po' settati non si possono tanto decidere mentre invece su IconX 2018 c'era molta più possibilità di scelta potevo appunto tenere premuto una volta premere una volta per fare il play premere due volte per fare la pausa tenere premuto per dare il comando vocale guida rapida bxb eccetera oppure attivare il suono ambientale oppure anche premere due volte per passare alla traccia successiva premere tre volte per passare alla traccia precedente poi anche scorrere in giù e in su per il volume c'erano tantissime funzioni sull'IconX che qui si sono veramente perse erano veramente delle funzioni secondo me essenziali per le cuffie perché così si evitava completamente di prendere lo smartphone in mano però comunque diciamo che se avete un Galaxy Watch ad esempio o un altro wearable di Samsung potete sicuramente andare contro questo inconveniente perché solitamente si può comandare con orologio la musica comunque da questa rapida anteprima e tutto arriverà sicuramente un confronto con IconX 2018 a parte le confezioni che abbiamo già confrontato ci vediamo in un prossimo video un saluto da RealUser101